Guarda che ho trovato, incredibile, più di gli orecchi, cioè, senti qua, eh, questo è incredibile, vai a sentire? Buon pomeriggio, io mi chiamo Vincent DJ e sono un esploratore della natura selvaggia della Tribù 54. Bene, 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 chiudi gli occhi, no, chiudi gli occhi, bene, bene, apri gli occhi, apri, oh! Signore e signori, attenzione, prego, un avvenimento eccezionale! Ho sentito grandi cose su di me, davvero? No, non ancora, ma le sentirò! È sicuramente il più qualificato, tutte le informazioni che mi riguardavano furono inserite in un computer. Ma io te capisci che c'è questo, mica sto dicendo qualcosa? Un momento, come si chiama lei? Vincent DJ! Bene, 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 tutte bene perché finisce bene e una meno, la va, ecco! Per trasmettere la felicità bisogna essere felici e per trasmettere il dolore bisogna essere felici! Ma la cavo bellissima! Si può alzare il volume? Si può sentire più forte? Voglierò un po' di utopia, un goccio! Diamoci una calmata, eh! Oh! E se...